Insomma, in qualche modo vede che lo ammette anche lei, è tornato e adesso fa paura. Allora, lo dico in maniera chiara, fa paura ai medici, non di un certo livello. Smettiamola di terrorizzare, come fanno certi tirocinanti da pollaio, sessantottini, laureati col sei politico, che invece di studiare scendevano in piazza gridando in modus, intillimanamente stonato e il Pueblo Unido amasse Ravensido. Ma con chi ce l'ha? Ce l'ho con i cedroni, con l'eschimo, che oggi vanno in giro a dire il Covid è mio e me lo gestisco io, pungidito, pungidito, orgasmo garantito e oggi noi medici, San Babilini di un certo livello, lavorando, rispondiamo col mazzo, col mazzo. è tutto un altro andazzo. Vabbè, adesso non stiamo a fare distanza.